La tua sempre più sul territorio a Teramo, oltre ai lavori che partiranno di riqualificazione della tostazione che si trasformerà completamente, a gennaio anche la sede sarà ristrutturata? Sì, abbiamo avuto accesso a un fondo del Sisma che rientra nel PNRR e quindi abbiamo attivato anche questa attività, oggi è notizia fresca di oggi che abbiamo firmato la consegna dei lavori all'impresa e quindi verranno avviati i lavori. Tutta questa attività, oltre al Master, ci ha visto impegnati per diversi mesi per raggiungere questi obiettivi che erano vincolanti giuridicamente, quindi contratto, appalto, contratto e consegna dei lavori. Nello specifico per Piazza San Francesco l'attività verrà iniziata appena dopo le feste, il periodo festivo, faremo dei tavoli tecnici di incontro con l'amministrazione e con l'impresa e con i tecnici, direttamente che seguiranno i lavori, per poter al meglio realizzare senza dare alla utenza e alla cittadinanza problemi di interferenza che solitamente con i lavori ci sono. È un intervento che guarda al futuro, quindi tutti gli impianti sono previsti con la gestione del fotovoltaico, quindi ecologicamente sostenibili. Ci saranno 14 stalli per la sosta breve degli autobus, quindi con carico e scarico degli utenti. Una cosa importante, verrà vietato l'accesso ai privati, se non limitatamente per il carico e scarico dei passeggeri, per evitare interferenze di sicurezza con i mezzi, con i vettori. E quindi anche i percorsi saranno percorsi dedicati alle persone con disabilità e alle persone che hanno scarsa problematiche di mobilità. Percorsi logis per le persone non vedenti e questo è stato un intervento attenzionato dall'Agenzia Nazionale di Regolazione dei Trasporti, che ci ha chiesto l'UMI e ci monitora dal punto di vista quasi periodicamente su come sta andando questa attività sulla città di Teramo. Poi ci sono altri interventi, altri tre progetti in provincia della tua, sempre con Fondi Masterplan, poi ha parlato anche di questo sistema del QR Code. Sì, ci sono sempre altri due progetti che sono in corso, quello di Mosciano è in fase conclusiva. Siamo nella fase di collaudo dell'opera e riconsegna al Comune di Mosciano, quindi anche Mosciano ha il suo hub terminal autotrasportistico. L'altro progetto prevede la messa in sicurezza delle paline di fermata lungo la Nazionale, la strada statale 16 Adriatica e la strada che porta all'Aquila. C'è l'intenzione di Tua di mettere in sicurezza tutte le paline di fermata, quindi con la realizzazione di l'eliminazione delle vecchie paline, delle vecchie società che non esistono più, con nuove paline di tipo che interagiscono con l'utenza. Quindi la messa in opera di QR Code che permetterà tramite i device di ogni utente di potersi collegare con il link dell'azienda, avere gli orari, le informazioni che daremo a tutti gli utenti. Rimane il problema del chilometraggio? Teramo ha un problema di mancanza di chilometri, in tal senso è la regione che deve attivarsi. Cosa può fare la Tua? La Tua può fare soltanto una mission di intervento sulla regione, però è la regione che è l'organo programmatore e regolatore di quello che è l'apporto economico sui trasporti.